Guarda! L'ho vista, le vedo E che cazzo vuol dire le mie mani non parlano di me? Dio porco Mi stai troppo sviscerando, io non ce la faccio più a stare qua Devi essere... Voglio ballare Cosa? Posso... Ballare con te? Mamma Giuditta che ne pensa degli ormoni? Non ho ancora parlato con mamma Giuditta di questa mia situazione Posso scegliere la canzone? Certo amore Sei agitato? Stai tranquillo Ok Puoi andare in quella luce e la fai rossa Sì amore Come si fa? Così? Sì amore Sì amore Sì amore Sì amore Sembri il Pokémon Jix E dai! Maurizio Landolfo ha donato 2 euro Sembri il Pokémon Junx Sì amore 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.